A me l'effetto è che le parole di Ade Micheli ed evidentemente anche di questo articolo che ha letto sono frasi che sono mirate a distogliere dalla realtà l'opinione pubblica. E lo dico perché io qui ho i dati del Ministero dell'Interno dei richiedenti asilo 2014. Cioè quelli che hanno fatto domanda, non quelli che sono scappati, perché ovviamente qui non abbiamo neanche identificato le persone. Sapete quanti dalla Siria hanno fatto domanda in Italia lo scorso anno? Cioè quelli che scappano dalla guerra, quella è la famiglia di quel bambino che è morto, 502 persone. Sapete che hai fatto domanda? Nigeria, non mi risulta che sono la guerra, 10.040 persone. Mali, Gambia, Pakistan, Senegal, Bangladesh, Afghanistan, Ghana, Ucraina, Costa d'Avorio, Guinea, Somalia, Iraq, Egitto e arriviamo alla Siria, 502 persone.